Ciao a tutti, sono Elita e sono in compagnia di... Odd! Oggi siamo qui su questo giochino Fireboy, Watergirl e Watergirl Tu devi fare Watergirl e io Fireboy Attenzione! Attenzione che devi andare sul fuoco, eh! Insieme... Uh! Grande, grande, grande! Allora, adesso il mio problema è muovimi! Aspetta, vado avanti, vado avanti, vado avanti... Vado avanti io! Vai! Nooo, la sto facendo bene! Vado sempre ammazzito a tutto e c'ho l'acqua! Oh! Mi c'è bloccato! Bravissima, ok! C'è questo posto qua che si chiama... Vomito! Vomito! Posso fare mai? No! Posso fare mai? No! No! Perché sono andata avanti? Ma perché? Non ce la farò mai! Olè! Olè! Dai, io potevo anche andarci! Aspetta il vomito! Aaaaaaah! 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 Uno deve stare qua, eh! Ci stai tu! Non schiacciarmi! Sono... Rimango qua! Ecco, vieni! Aspettamiiii! Aspettamiiii! Devi saltare? Ah, si! What? E non ce la farò mai! Aiuto! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ah, l'ho fatta! Io prima prendo quel diamante senza morire! Tadadam! 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 Bravissima! Bravaaa! Grazie! No, grazie! Oh, ragazzi! Questa parte qui l'ho fatta io! Le stavo uccide! Dai! No! Hai preso quello sbagliato! No! No, ma tu sei finito sul mio! Ah! Mi devi attivare sto cosa! Fatto! Già puoi andare! Eh! Cosa combini! Cosa è combinato! Eh! Oddio! Non ce la farò mai! Oh! Eluia! Andiamo a questo livello! Finalmente! Ce l'abbiamo fatta! Finito! Ok! Decidi tu! Questo! Questo qua! Sì! Hai scelto tu! Ehm! Ci proveremo lo stesso tanto! Ok! Capito! Stai lì! Stai lì! Torna dov'eri prima! Torna dov'eri prima! Al pulsantino! Brava! Devo andare lì! Mola il pulsantino! Un piccolo passettino! Scusa! 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 Adesso me la gioco io! Perché sono strumpo! Che cazzo! Mi sono tutto buttato fuori dal gioco! Ho fin là per saltare perché sono troppo lontano! Va bene ragazzi! Questo è il video! Spero che vi sia piaciuto!